Musica Molte mamme si chiedono se sia opportuno o meno vaccinare i propri bimbi. Qualcuna di loro magari ha anche sentito che la vaccinazione per il morbillo, ad esempio, determinerebbe autismo. Ma è vero o si tratta di una leggenda metropolitana? Lo abbiamo chiesto al dottor Alfredo Guarino, professore ordinario di pediatria della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli Federico II. Prima di vedere cosa ci ha svelato il professor Guarino, guardiamo insieme brevemente di cosa parleremo oggi. L'infezione del morbillo è causato da un virus della famiglia paramyxovirus, il morbillivirus. Essa fa parte delle cosiddette malattie esantematiche, che cioè si manifestano nel bambino sotto forma di eruzioni cutanee e maculopustolose. Il morbillo, oltre ad essere altamente contagioso, si trasmette infatti per via aerea, è una patologia potenzialmente mortale. Tuttavia esiste un vaccino, l'MPR, effettuato insieme a quello per la parotide e la rosolia, tra il dodicesimo e il quindicesimo mese di vita, con un richiamo a 5-6 anni. Nel 1998 però, un medico britannico, Andrew Wakefield, pubblicò sulla rivista Lancet un lavoro in cui sosteneva che esiste una correlazione tra tale vaccino e la comparsa di autismo. Questo determinò un repentino calo delle vaccinazioni in Gran Bretagna, con conseguenze molto gravi, oltre all'instaurarsi di una credenza ancora non scomparsa. Siamo con il dottor Alfredo Guarino. Professore, grazie per aver accettato di partecipare al nostro programma. Prima di affrontare la storia di Andrew Wakefield, ci puoi spiegare brevemente perché è importante il vaccino del morbillo? Il vaccino del morbillo è importante perché salva vite umane, nel senso che il morbillo, nonostante il nome morbillo, significa piccolo morbo, quindi insomma sembrerebbe far pensare è una malattia trascurabile, il morbillo invece ha una sua mortalità. In sostanza la mortalità del morbillo è uno su mille, quindi una persona che ha il morbillo su mille muore. Il morbillo non è una possibilità nella vita di una persona ma è una certezza. In pratica non è possibile arrivare a fine vita, in una vita normale, senza avere contratto il morbillo. Quindi sostanzialmente se non ci fosse il vaccino una persona su mille morirebbe perché ha il morbillo. Mille persone su un milione morirebbero. Il morbillo, il vaccino antimorbillo è importante perché questo non succede. Non succede ovviamente se le persone si vaccinano. Abbiamo avuto a Napoli nel 2002 la più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni e abbiamo avuto quattro bambini morti di morbillo. Questo non deve succedere, non deve più succedere, quindi bisogna vaccinare per il morbillo. Passiamo ora al rapporto tra il vaccino del morbillo e l'autismo. Esiste questo rapporto o è una grande bufala? Il rapporto tra morbillo e autismo è una bufala. Possiamo dire che è una bufala perché è stato indagato con grande attenzione. Sull'autismo c'è un grande interesse ed è un interesse sacrosanto perché l'autismo è è una malattia terribile. Malattia terribile che non si conosce bene, è una malattia che sorprende, è una malattia che si riconosce con qualche ritardo e sulla cui genesi esistono grandi studi. Alcuni anni fa uno studioso inglese ha pubblicato un lavoro che ipotizzava un rapporto tra il vaccino del morbillo e l'autismo. Il risultato di tutto questo è che gli inglesi, spaventati da questa ipotesi di rapporto, non hanno vaccinato i loro figli. Ci sono stati molti casi di morbillo, una vera e propria epidemia, con delle conseguenze terribili. Questo studio ha scatenato una grande messe di dati, quindi sono stati fatti molti altri studi. Questi altri studi, almeno 25, hanno negato l'esistenza di qualunque rapporto. C'è stato di più però. C'è stata una inchiesta giornalistica su questo lavoro. Quello che si è scoperto è che il dottor Wakefield, che aveva pubblicato questo lavoro, aveva un interesse, era stato pagato sostanzialmente da un avvocato inglese che voleva fare una class action, quindi voleva fare una causa per risarcimento, che era una causa inventata, e aveva chiesto al dottor Wakefield, pagando 500.000 sterline, quindi l'equivalente di 700.000 euro, di creare delle prove, creare, non trovare, creare delle prove, che in qualche modo fornissero l'ipotesi di questo legame. Lo stesso dottor Wakefield, come risulta dalla inchiesta fatta da un giornalista inglese, aveva poi brevettato un nuovo vaccino per il morbillo. Successivamente, a seguito di questa indagine, l'articolo è stato ritrattato da Lancet, cioè Lancet l'ha cancellato dai suoi archivi, dicendo che quest'articolo era inventato, quindi era una bufala, e il dottor Wakefield è stato espulso dall'ordine dei medici inglesi. Quindi, insomma, non esiste, e in questo caso possiamo esserne certi, nessun legame tra vaccino per il morbillo e autismo. Un'ultima domanda sui vaccini in generale. Esistono controindicazioni all'uso dei vaccini? Esistono alcune rarissime controindicazioni all'uso di vaccini in alcune specifiche popolazioni. Ad esempio, dei bambini che hanno avuto delle reazioni anafilattiche, quindi gravissime, alle prime dosi di un determinato vaccino, non debbono fare poi le dosi successive. Sono situazioni estremamente rare. Per il resto, invece, esistono delle conseguenze molto lievi praticamente per tutti i vaccini. Per esempio, i vaccini iniettivi creano un po' di dolore nel punto di iniezione. In alcuni casi creano un arrossamento. Alcuni vaccini danno delle reazioni marginali. Sono sostanzialmente delle piccole infezioni fatte da patogeni attenuati o da loro prodotti che sono stati modificati. Quindi è ragionevole attendersi una qualche reazione nell'organismo. Queste reazioni sono di solito di scarso significato clinico. Per esempio, nel morbillo si può avere una febbre, si può avere anche lo stesso piccolo rash. e si può avere anche, in casi del tutto eccezionali, in un caso su un milione, si può avere, per esempio, un'encefalite da vaccino antivorbillo. La stessa encefalite, con conseguenze molto più gravi, si ha in un caso su mille di malattie. Quindi, sostanzialmente, il rischio di encefalite rispetto alla malattia è mille volte più basso nel vaccino. Quindi, dobbiamo, in qualche modo, pensare che paghiamo un piccolo prezzo quando noi ci proteggiamo da una malattia, ma ci proteggiamo invece da una conseguenza che è molto, molto peggio del piccolo prezzo che paghiamo. Ringraziamo il dottor Guarino per la disponibilità. La nostra rubrica di medicina termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Panacea. A presto! A presto!